La provincia di Lecco perde il nucleo carabinieri forestali. A lanciare l'allarme il gruppo consigliare dei civici, formazione rappresentata a Villa Locatelli da sindaco di Valmadrian Antonio Rusconi. È stato comunicato ai comuni, si legge nella nota, che il gruppo carabinieri forestali di Lecco è stato soppresso ed è stato accorpato a quello di Como. Dopo l'abolizione del corpo forestale nel 2015, previa della riforma voluta dal governo Renzi, i militari che ne facevano parte sono stati aggregati ai carabinieri. Il corpo Lecco ha sede in Via Costa, nel rione di Acquate. Negli ultimi mesi i carabinieri forestali hanno contribuito nella nostra provincia a diverse operazioni contro i fenomeni di bracconaggio, contro pratiche illegali di caccia e vigilando infine sul rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente. Pur non entrando nelle dinamiche autonome dei corpi militari, proseguono i civici, ci permettiamo di eccepire che si tratta di una perdita di autonomia nelle chiese, l'ennesima di questi ultimi anni. Non è una semplice questione organizzativa. Il corpo carabinieri forestali svolge importanti compiti in ordine alle materie ambientali, di ispezione, di indagine e di protezione dell'ambiente, anche per reprimere quei reati ambientali che non sono più tollerabili in territorio come le chiese, anche perché molti di questi possono essere collegati a fenomeni di infiltrazione criminale. Un appello giunge dunque dalla minoranza alla neoletta presidente Alessandra Hoffman, chiediamo a lei, concludono i civici, di farsi interprete di questo sentimento di contrarietà per la perdita di un presidio così importante nel nostro territorio. Ci rivolgiamo anche alle altre forze politiche e alle associazioni sensibili a queste tematiche per chiedere un tavolo di discussione con la prefettura allo scopo di ottenere informazioni e assicurazioni e rimettere in discussione questa scelta.